così non si può continuare secondo me bisognerebbe mettere o la dittatura o mettere un regime comunista vedete il semplice fatto ragazzi che se ci fosse la dittatura succede che ti dicono di lavorare 8 ore al giorno e non hai più una vita sociale e dovrai andare a lavorare e magari c'è anche un articolo 36 che ti prende per il culo se invece mettiamo un regime comunista magari andresti a lavorare con percentuale se ci sono 10 che lavorano 10% a testa quello sarebbe un regime comunista molto appropriato diciamo che non ci sarebbero più tra virgolette i ricchi e neanche più i poveri diciamo che sarebbe un po' meglio poi magari con tutta questa tecnologia possiamo mettere anche un reddito universale e far lavorare i robot lavorare 4 ore al giorno solamente finché ovviamente i lavori ci saranno ancora ma ci stanno già rimpiazzando ma con un regime che ragazzi me lo potreste dire voi in che regime siamo adesso? vediamo se lo sai scrivono nei commenti bye ragazzi ciao ci stanno